Per me? Ah sì, un piacere. Grazie, questo io me lo prendo. Ma lo posso dare di tosse al ministro? Posso il ministro? Posso. E' questo qua. Poi lo riprendo io. Allora, mettiamolo così. Prego? Mettiamolo così. Così? Eh, vedi che ce l'hanno tutti un po'... Allora, come si mette? Alle ore 23, per dire. Alle ore 23. Allora, facciamo le cose belle. Sono metà lei, guarda io, è bravo. Ecco, perfetto. Grazie, grazie. E' il suo, io lo restituisco. Bellissimo? Bellissimo. Ah che bello, eh? Ottima costa. Bene, buongiorno. Vito sta. Vieni. Vieni. Allora. Allora.